Salve amici bentornati nel mio canale. Ho sbucciato un po' di piselli ed io vado a conservare anche le bucce, oltre ai semi che mi serviranno per un'ottima minestra più tardi. Nella vita in campagna non si getta niente, tutto ha il suo reciclo naturale e in questo caso proprio le bucce dei piselli sono ottime ma non per me o anche volendo per me perché posso fare un ottimo risotto oppure la pasta con le bucce di piselli ma soprattutto per la mia fattoria. Guardate i nostri conigli, vanno ghiotti, li gustano proprio. E' bellissimo guardarli come se li divorano le bucce dei piselli. E' certo loro conoscono cos'è buono, gustoso e naturale. Non vogliono mica un qualcosa acquistato oppure qualcosa di manipolato. E' bravi i nostri conigli. Ed io li guardo come loro si cibano di cose solo naturali. Ciao alla prossima amici, grazie.